Un piano mirato di controlli, integrato anche da pattugliamenti in borghese e dall'impiego di comparti di specialità dell'arma, teso a contrastare la criminalità predatoria e garantire un servizio sul mare e nell'entroterra, all'altezza delle esigenze di sicurezza dei cittadini isolani, di cui migliaia di turisti che si sono riversati nel nord dell'isola per le vacanze. Nel corso della stagione estiva appena trascorsa, 21.000 ai veicoli controllati e quasi 33.000 alle persone identificate, di cui 110 giovani i quali assuntori di sostanze stupefacenti. Numerose le violazioni al codice della strada riscontrate durante i massicci controlli alla circolazione stradale, 135 le patenti sospese, 148 le carte di circolazione ritirate e più di 2.000 punti sottratti, 88 gli arresti in flagranza di reato e 633 persone denunciate in stato di libertà nell'ambito dell'attività di repressione dei reati. In particolare 20 arresti per traffico, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. Inoltre 4 soggetti sono stati arrestati per il reato di tentato omicidio e altri 3 per reato di rapina. C'è un trend sostanzialmente stabile, è chiaro che l'andamento della delittuosità ancorché con dati non allarmanti è sinusoidale, nel senso che in periodo estivo con il maggior numero di persone è più alta la probabilità di verificarsi alcune cose che possono essere un danneggiamento anche di natura colposa, ovvero un reato contro il patrimonio come può essere il furto a bordo di veicoli magari incautamente parcheggiati in posti non tanto sorvegliati. Sull'incidenza dei fenomeni chiaramente è poi regolarmente svolto secondo quelle che sono le dinamiche proprie. Inoltre proseguita l'attività del Codice Rosso, 13 arresti e 113 persone arrestate per maltrattamenti in famiglie e atti persecutori. A estate chiusa l'impegno dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari continuerà a garantire regolarmente la sicurezza sul territorio nelle prossime settimane con un'attenzione specifica verso le ore serali. Con l'impegno che sempre contraddistingue il nostro modo di fare, grande attenzione sull'attività di prevenzione e controllo del territorio, grande vicinanza alla popolazione, empatia, sicurezza percepita e dialogo.